Ultimo appuntamento con l'informazione sulla viabilità in Toscana, una cordiale buonasera da Andrea Biagioni di Firenze Smart. Traffico che al momento scorre in maniera regolare su tutta la rete stradale e autostradale della regione. Sulla 1 panoramica a partire da stanotte fino al 4 febbraio in orario notturno 21.6 rimarranno chiusi i tratti tra Roncovilaccio e Pian del Voglio verso Bologna e tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sempre sulla 1 panoramica si ricorda che fino al 28 febbraio rimarrà chiuso il tratto tra Aglio e Roncovilaccio in direzione Bologna. Ancora sulle tratte appenniniche della 1 si consiglia prudenza a causa della nebbia banchi. Cantieri di Firenze da domani fino al 3 febbraio in via Reginaldo Giuliani per interventi programmati di potatura di vieto di transito nel tratto via Baroni via della Pietraia. E anche per oggi è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!